Roma City si acciudica la sfida salvezza espugnando 3 a 2 il terreno del notaresco. Gli ospiti ci provano già all'odicesimo con un colpo di testa alto di Raffini e al quattordicesimo con una punizione di Cabeia che termina non lontano dal palo. Al sedicesimo il Roma City passa in vantaggio Rimondi, stessa in area, e Raffini realizza il rigore dello 0 a 1 spiazzando Shiba. Al ventesimo proteste per il notaresco che su una conclusione di Badan dal limite respinta in area ha chiesto inutilmente un tocco di mani. Gli ospiti insistono al ventiseisimo Rasi se ne va sul fondo e mette in mezzo con un Super Shiba che si esalta a 2x2 su Raffini. Al trentaquattresimo prova a replicare il notaresco con Mercado che se ne va sul fondo in slalom e crossa con Gelsi che non ci arriva per un soffio. E su capovolgimento di fronte Cabeia, Ribera, a tuppertù Raffini ma ancora Shiba è strepitoso. Nel finale di tempo il Roma City piazza l'allungo decisivo al trentottesimo, fa tutto Raffini, viene messo giù in area da De Caro, si fa respingere da Shiba il calcio di rigore e poi lo ribadisce in rete per lo 0-2. Al quarantaduesimo arriva anche il terzo gol per Roni lanciato in contropiede, salta Shiba e deposita in rete lo 0-3. Inizia la ripresa e il Roma City si vede annullare il quarto gol realizzato da Ferrante per fuorigioco. Il notaresco però non molla e trova la forza per reagire. Al diciassettesimo la punizione di Manari è alta, mentre al ventiquattresimo lo stesso attaccante se ne va sulla destra e cede a Gelsi che però conclude debolmente dal limite. Al trentacinquesimo Forcini viene lanciato in area, supera anche il portiere e poi conclude alto a porta sguarnita. Al trentasettesimo arriva l'1-3, fallo di mano di Rimondi e Manari realizza il rigore sul seguente. Il finale è caldissimo. Al quarantaseiesimo ci prova ancora Forcini dal limite trovando la parata di Barone che al quarantottesimo invece esce a vuoto e permette a Di Renzo di insaccare da due passi il 2-3. L'ultimo brivido al cinquantesimo con Bartoli che va giù in area è l'arbitro che lascia proseguire nonostante le proteste veventi dei padroni di casa. Assolutamente, sì. Purtroppo noi abbiamo sempre questi cali di attenzione alla fine della partita che rischiano di compromettere tutto. Oggi è stata al primo tempo un'ottima gara, al secondo tempo a sprazzi, però poi come dicevi tu, purtroppo rischiamo sempre di compromettere tutto perché arretriamo troppo la nostra azione. Sì, assolutamente, dà spinta a noi, però io vorrei dire anche che la squadra notaresca oggi è stata un'ottima avversaria. Purtroppo quando costruisci le squadre così in poco tempo perdi sul campo qualcosa. Quello che vi posso dire è che si sono incontrate due squadre che sono state costruite così in poco tempo e quindi già è tanto che stiamo facendo un buon campionato. Sì, la peggior partita che abbiamo fatto, primo tempo vergognoso, la parola giusta è vergognoso. Colpa mia che ho messo in campo questi giocatori in questa maniera. A mio avviso li devo cambiare tutti e undici. Sinceramente non ho parole, forse non mi è mai successo in carriera di allenare una squadra che si presenta così nel primo tempo. Una difesa, difensori che non prendono una palla di testa su rinvii avversari. Non mi è mai successo in carriera. Colpa mia, assolutamente colpa mia. Quindi non c'è più nulla da aggiungere. Poi alla fine la potevamo quasi recuperare. Però bisogna analizzare bene, vedere che una squadra del genere come Roma City stava indietro a noi di classifica mi fa pensare. Perché è una squadra strutturata, una squadra con giocatori importanti.